e la tutti ragazzi sono foggy sono tornato si sono tornato quanti saranno felici di sentirla di nuovo la mia voce ok vedo che siete in tanti grazie intanto grazie a voi cinque che mi state guardando sempre so di cinque non so chi siete no non lo so quanti come andranno questi video perché voglio dire questo è il terzo video che carico che faccio dietro fila quindi non so allora è vero che devo caricare la partita eravamo rimasti qua si sta smergando tutto ma va bene e che dire scrivete nei commenti io cercherò di rispondere a tutti se volete che saluti qualcuno nei video così potete dirlo anche se non ci sarà nessuno a scrivere e a mettere mi piace perché sono una persona molto poco conosciuta così grazie per la stima vabbè eravamo rimasti qua dobbiamo scoprire chi faceva per rumori molesti allora cosa è stato cerco nel pokedex che cazzo ridi cosa c'è di divertente mio nonno non ho capito so sei tu nonno nonno non ho capito vabbè è finalmente qui charmander stai pronto un kangashkan attenzione ci ucciderà tutti ci lancerà i suoi piccoli ho visto ti ho visto kangashkan sei vabbè non chiedetemi cosa sta dicendo non chiedetemi cosa sta dicendo charmander attacca ten ten ehi fermati non vabbè non tradurrò mai più adesso perchè mi romo vieni charmander ok ho tradotto questo kangashkan mi ha colpito no ha stato colpito ho bisogno di aiutarlo ma dov'è finito loro sono andati in mezzo agli alberi io non posso andare in mezzo agli alberi oh una pokeball è vero potevo comprarle le pokeball che stupido che sono ovvero hey love well i lost it i got you to thank for that ehm ehi non mi hai chiesto il permesso che cazzo come minchia vestito è un campagnolo rival bubu fantastico rival bubu skyter fatti sotto rival bubu eh cacchio era così così ecco lì vai poliwii strugle stragole cos'è falso finale no non è che cazzo però è vabbè comunque skyter è forte mi piace ancora io non ho ancora capito che mossa è questa vabbè comunque se andrò un po' a scatti come fa sempre perchè sto caricando il primo video infatti è per questo che non potrò rispondere ai commenti cioè non potrò mettere in atto se mi dite qualcosa nei commenti subito o la punti subito a livello 7 è salito di due livelli ah no era già dei livelli ah bene lì si ci vuole una buona notte bruno me ne puoi importare di meno adesso che sarebbe parato insieme lì si si da 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 barabarabara si vabbè abbiamo capito che poliwii si fa tutti pam 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 lanciafiamme ah si giusto se bulbasauri è solo a raggio è logico che charmander abbia lanciafiamme beh logico non l'ha mica tanto però va bene così a noi tanto non cambia non cambia troppo e là tanti bei punti esperienze arriva al buku abbiamo ottenuto 400 pokemon head è stato il verso di kangash kan vado sono allenatore sei buono chissà che pokemon si trovano qua dentro non mi va di cercarle adesso anche se sarebbe lo scopo iniziale del gioco uh mini pokemon troppo pozione fatti sotto piglia mosche hey you have a pokemon come on let's battle batteliamo è troppo figo bug catcher rick bug catcher piglia insetti piglia mosche take eh per scopato spiello è stato scopato da una stringa da scarpe vabbè per non non no 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 oddio video è vero che posso velocizzare i video mi ero scordato eh sì google assault contro un caterpillar non può fare niente perchè se lo stesse chiedendo sto velocizzando perchè così facciamo più in fretta però durante la storia voglio andare piano voglio fare come se fosse un vero gioco beh è un vero gioco però vabbè mi ha preso ayam samurai si con una cosa da pigliare le mosche con un retino se un samurai ah beh dai battiamolo con Bulbasaur proviamo a battere con Bulbasaur sullo stacco ieri sera mi sono addormentato alle 10 lo so è in vacanza non dovrei addormentarmi alle 10 ma non ce la faccio più ero stanco morto alle 10 mi vergogno di me stesso e mi sono svegliato alle 7 mi vergogno ancora di più di me stesso vabbè oh oh quanti bei punti quindi vabbè facciamo combattere ecco però velocizza più per quanto possa essere più veloce così il video si di poco ma più veloce da ci sono emulatori che velocizzano anche di più ma va bene questo tanto io non ho fretta posso fare tutti gli episodi che mi pare e allora quindi Bulbasaur sta perendo in battaglia stavo pensando che per le prossime per i prossimi video potrei mettere di sottofondo dato che non si sente una mazza della dell'audio di questo gioco dato che uso a tube catcher che è una cosa schifosa per registrare a tube catcher e pensavo che potrei scaricarmi delle canzoni dei pokemon e metterle come sottofondo pure che so anche di altri anime si posso farlo tanto poi non so come funzioni ancora bene il copyright perché così potrei cioè metto il nome delle canzoni in descrizione così mi levo i problemi della vita siamo tutti più felici e il professor occhio è una persona mistica non so che cacchio c'è mi sto annoiando con un kakuna la prossima volta che combatto contro un kakuna stoppo il video cioè e poi lo rifaccio ripartire perché è una cosa assurda oh oh a livello 10 leia dis fatto abbiamo dis fatto def non so se voglio dire dis fatto letteralmente figo credo fosse un fiorellino invece era un pack ball dentro un cumulo d'ergo l'alga lagga 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 fa un buon po' show allora mmmm come era sta storia così poi così si eh perchè sto facendo sto scavinando con i tasti ecco come l'ho detto ok ok tu 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 carico totale non mi ricordo come si chiama cura totale what's the rush si cavolo facciamo che durante i video stop perché ci metto veramente tanto e 15 minuti non bastano siete tutti testimoni di quello che ha detto questo pigliamoschia buzz are strong ok direi che siamo quasi alla fine non ho cioè non ho fatto molta strada semplicemente c'erano 35 allenatori diversi molti tanti allenatori diversi ok ho battuto anche quell'allenatore lì ho trovato 30.000 cura totale perché c'è ancora non l'avevo già preso oh che voglio micchia beh ragazzi abbiamo il rifornitore ufficiale di cura totale ne prendo un pochino ma si può fare una cosa del genere sono una pokeball ho una pokeball in mano stai molto attento ok direi che 14 possono bastare ma facciamo 15 dai che basta no sono tentato da prenderla via ehi cosa? where is that full hell? dov'è questa full hell? dove sarà mai? è qua è qua dove vuoi che sia oh io non so cosa allora devo cercare kangashkan il dimbo stupido ma non so dove andare vi giuro che la musichetta in questo bosco è quanto inquietante se è giocata a questo gioco è inquietantissimo è inquietante trener tips io non trovo sto kangashkan dove è capito però è finito dove è capito forse qua dove eh se ci vuole taglio allora dov'è questa full hell? dov'è questa full hell? tu mi chiedi pure dov'è è qui forse do' tornare indietro torno indietro oh l'ho trovato però ho notato che nell'erba non si trovano pokemon potete girare per ore ma non trovate niente your baby it's zitto ok nooo arriva wuburum pipal eh that's right cool that's true ehm the baby's poison really badly è poisonato veramente male hai bisogno di una full hell ok si tu torni pure a Viridian City per comprare una cura totale che là c'è il distributore automatico sei pazzo by the time you get ah sono io che l'ho detto non lui ma siamo pazzi è pazzo il mio personaggio si lui lo fa pure a cercare io ce l'ho ah è che lei torna indietro ehi mi stai fottendo oh mamma mia my name is boogie what's yours if you leave me alone my name is boo boo ok basta quindi direi che ah se gli parlo torna indietro ah si ripete la scenetta se gli parlo un altro bug eh non credo che sia un bug vabbè comunque manca 20 secondi vi saluto qua intanto e da foghi è tutto maramiao a tutti no ho sbagliato maramiu a tutti ecco esci prima che finisca il video no 7 6 5 4 3 2 1 8 8 9 10 13 15